E' ancora battaglia tra pubblica accusa e difesa sui testimoni danesi. L'udienza di questa mattina del processo per la morte di Martina Rossi, la studentessa Ligure, morta dopo essere precipitata dal sesto piano dell'hotel Sant'Anna di Palma di Mallorca il 3 agosto 2011, si è conclusa infatti con un nuovo rinvio. E' ancora battaglia tra pubblica accusa e difesa sui testimoni danesi. L'udienza di questa mattina del processo per la morte di Martina Rossi, la studentessa Ligure, morta dopo essere precipitata dal sesto piano dell'hotel Sant'Anna di Palma di Mallorca il 3 agosto 2011, si è conclusa ancora con un rinvio. Sul banco degli imputati due giovani aretini, Luca ed Alessandro, accusati di morto in conseguenza di un altro reato, la tentata violenza sessuale. Per l'accusa la ragazza infatti sarebbe volata giù cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro. Per la difesa dei due imputati si tratterebbe invece di suicidio. Questa mattina in aula doveva esserci la discussione sull'accordo tra pubblica accusa e difesa sull'acquisizione dei verbali resi in fase di indagini preliminari dai testimoni stranieri ritenuti rilevanti per la proseguizione del processo. Su tutti appunto i testi danesi la cameriera Franziska, l'unica testimone oculare. La richiesta era arrivata dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi. I difensori degli imputati si erano riservati. Adesso il giudice Angela Avila ha riconvocato l'udienza per il prossimo 26 luglio, quando sarà presa una decisione circa l'accordo. I testimoni danesi che condividevano la stanza accanto alla 609 dove si consumò il dramma sono stati comunque individuati. La procura di Arezzo ha infatti avuto la ricevuta di ritorno della raccomandata notificata all'indirizzo dei due turisti e poi rispedita alla polizia giudiziaria di Genova. I due scandinavi padre e figlia quella notte avrebbero sentito prima un urlo di Martina secondo gli investigatori e poi una corsa per le scale di Alessandro, sempre secondo chi indaga.